Riprenderanno a breve i lavori sulle parti ancora da completare del circuito cittadino delle piste ciclabili e ciclopedonali. Una volta chiusi i cantieri si potrà procedere con il collaudo, che riguarderà anche il tratto da realizzare in via Diaz. Lo ha spiegato in Consiglio Comunale l'assessore alle infrastrutture e alle politiche della mobilità Antonio Piu. Un progetto sicuramente che negli ultimi tempi, per quanto riguarda gli ultimi pezzi, via Diaz, via Budapest, via Washington e via Parigi, è stato ripreso dagli uffici e dal mio assessorato. Perché le novità saranno quelle di creare dei percorsi che poi potranno essere modificati in seguito e cercare di capire quanto poi l'utilizzo in determinate vie della città sia centrale. Sicuramente lo sarà via Diaz, dove sarà previsto un nuovo asfalto per tutta la via, sarà prevista una nuova segnalittica e sarà prevista la corsia in sede propria sulle piste della pista ciclabile. I tempi di consegna saranno quelli di dicembre per quanto riguarda via Diaz, mentre per fine marzo è prevista la consegna definitiva con il collaudo di tutto l'intero circuito. Allo studio novità per i parcheggi. I parcheggi che verranno eliminati in via Diaz saranno sicuramente ripresentati sotto diverse forme. Il parcheggio interrato e gli abbonamenti agevolati saranno una di quelle novità che presenteremo insieme alla fine della realizzazione della pista ciclabile in modo tale da dare alla città maggiori certezze la direzione dei parcheggi interrati e dei parcheggi in superficie. Sarà ben visibile, sarà segnalata a differenza di quanto non lo sia stata ora. E quindi meno passaggi per cercare parcheggio, ma più certezze per i cittadini per avere un posto dove mettere la macchina.